ben ritrovati a voi tutti cari amici dal vostro nicole de lucia in questo secondo e ultimo video di oggi parliamo di calcio maschile coppa italia team serie serie b 2020 l'inter finalmente torna la vittoria anche se dovrà farlo anche in campionato battendo nella sfida secca quarti di finale appunto di coppa italia la fiorentina san siro per 2 a 1 con le reti di candreva al 44 del primo tempo su assist di lautaro martinez e di barella 67 da tenere anche il 1 a 1 momentaneo di martin caseres al 60esimo su assist di pulgar nell'inter ha debuttato il neo acquisto dal tottenham ericsson al 66esimo che ha sostituito alexis sanchez inoltre per l'inter sono entrati moses ed esposito per la fiorentina cutrone subito nel secondo tempo al 55esimo sottile ghezzal i bookmaker ovviamente davano molto favoriti 1 e 53 1 e 56 l'inter ora i nero azzurri dovranno affrontare il napoli nella semifinale che ripetiamo è andata e ritorna che come la sfida tra milan e juventus anche per i nero azzurri ci sarà la gara di andata a febbraio a meno così credo eh la gara di ritorno nei primi di marzo ovviamente da considerare che in questa sfida l'inder da febbraio riprenderà il cammino europeo in europa league essendosi classificata a terza nel raggruppamento di champions mentre nell'altra sfida la juventus concorrerà per le ottavi di finale di champions league quindi viva il calcio per l'occasione forza inter noi ci vediamo domani almeno con un video diciamo dedicato a ciò che potrebbe riservarci e un po' alle anticipazioni della puntata di friday night smackdown e poi vediamo se c'è se ci sarà anche un secondo video ma credo di sì visto che questa sera in ora molto avanzata alle 21 e 15 giocherà l'olimpia milano in casa contro il bayern monaco per la partita di eurolega quindi credo anche domani avremo due video bene grazie a tutti nuovo viva il calcio forza inter ciao